Ciao Stellina, ti trovo benissimo. Io invece ho certi doloretti alla schiena... Sto diventando brutta. Hai capito che ho detto? Sì. Puoi spegnere il televisore quando ti parlo. Perché? Perché non parliamo mai. Ti prego, non ricominciare anche stasera. Stasera è successa una cosa tremenda. Ho invidiato mia figlia perché... Perché ha ancora tutta la vita davanti a sé. Perché il suo uomo la guarda ancora in quel modo. Perché è ancora così lontana dal tempo che passa tutto uguale. Ma tu che ne sai? Tu che te ne stai lì musone da quando ti conosco. Che ne sai? Sei monotona e ripetitiva. Avrò preso da te. Io lo sono con chi non mi dà stimoli. Proprio tu mi parli di stimoli? Tu che non mi guardi più da una vita. Avrò smesso di trovare qualcosa di bello da vedere. Dio, come sono infelice! Come sono infelice!